Buongiorno, sono Adele WM di Italia. Oggi vi presento VMD 100 CO copri macchia per muri. È una vernice bianca che copre ogni tipo di macchia. È indicato per macchie dovute alla foligine, al fumo, alla muffa, allo sporco in genere, a penarelli, a matite. È ideale su muratura, cartongesso ed intonaci. Il prodotto è sovraverniciabile. Per sporchi difficili è consigliabile applicare più volte. Grazie a tutti per l'attenzione. Vi ricordo di consultare il nostro sito e di seguirci sui nostri social media. Grazie.